Composta da ex sviluppatori di Electronic Arts e Sony, Impulse Gear debutta nel mercato VR con il primo blockbuster esclusivo per PlayStation VR, accompagnato da una periferica studiata insieme alla casa di Tokyo e pensata appositamente per valorizzarne il gameplay. Farpoint è un classico FPS fantascientifico ambientato sulla superficie di un pianeta sconosciuto, in cui nei panni di un pilota precipitato nelle profondità di un wormhole dovremo sopravvivere mentre una meriade di alieni poco amichevoli cercheranno di ostacolare il nostro ritorno a casa. Chiaramente la stessa sfortunata sorte è toccata anche ad altri due membri della nostra squadra, ma quando si tratta di viaggi spazio-temporali e atterraggi d'emergenza in terra straniera, le cose non vanno mai come dovrebbero. L'atterraggio del nostro alter ego sarà infatti molto meno piacevole di quello toccato ai nostri compagni e la nostra priorità principale sarà quella di ritrovarli per poi fuggire e dimenticarsi della spiacevole avventura. I ragazzi di Impulse Gear non riescono sempre a tenere in piedi una narrativa che tenga a testa il racconto sci-fi di matrice più autoriale e cadono spesso vittima di alcuni cliché tipici dei blockbuster olivudiani a cui si ispirano. Nonostante il tutto risulti spesso come un minestrone di riferimenti iconografici saccheggiati qui e là dal cinema e dalla letteratura popolare, il racconto riesce comunque a risultare come un collante sufficiente a tenere in piedi la struttura ludica del titolo. Non fraintendetemi, non mancano momenti in cui la scrittura si colcede in momenti più intimi e interessanti, ma la necessità di comprimere il racconto all'interno di una grammatica non ancora chiara come quella della VR è palese e finisce per rendere lo script di Farpoint secondario rispetto al gameplay. Imbracciando il nostro fucile dovremo quindi farci strada attraverso un buon numero di livelli, oltretutto dotati sempre di una personalità propria che dona un gran senso di varietà alla campagna, in cui incontreremo creature di tutti i tipi da sconfiggere nei modi più variegati. Nel corso della nostra avventura ci ritroveremo faccia a faccia con ragni corazzati, alieni antropomorfi, cecchini e robot, senza dimenticare una bella boss fight con una creatura enormemente più grossa di noi. Per sconfiggere i temibili avversari potremo contare su una buona varietà di armi, che vanno dal classic fucile d'assalto al fucile a pompa, a quello da cecchino ad altre piccole chicche. Il lavoro fatto per adattare le armi a ogni situazione specifica rende estremamente piacevole passare da una bocca di fuoco all'altra, impedendoci di affezionarci troppo a un approccio unilaterale e variando costantemente l'impostazione degli scontri. Come si accennava in apertura, il titolo di Impulse Gear esce in bundle con line controller minimale ed ergonomica periferica PlayStation VR, che va ad affiancarsi ai PlayStation Move nel piccolo panorama dell'hardware VR di Sony. La periferica non è altro che un simile fucile d'assalto con tutti i tasti del Dual Show 4 e due thumbstick posti all'altezza dei pollici. Inutile negare come l'esperienza di Farpoint si viva infinitamente meglio attraverso l'utilizzo di questa comodissima periferica, che aumenta di gran lunga l'immersività degli scontri a fuoco e le possibilità di movimento. Il Dual Show 4 è comunque compatibile, ma l'impatto generale sarà molto meno soddisfacente, facendo preferire di gran lunga l'acquisto in bundle con Lime. Anche questa periferica tuttavia non è perfetta. Nonostante sparare con Lime risulti particolarmente divertente e intuitivo, il tracking tenderà a perdere la posizione dell'arma ogni pochi minuti, costringendo il giocatore ad agitare la periferica per ritrovare l'allineamento con l'arma virtuale. Non è sicuramente un problema che rovina l'esperienza e a un certo punto inizieremo a riallinearci involontariamente senza pensarci troppo, ma scoccia che un hardware pensato apposta per Farpoint non sia perfettamente funzionante sotto tutti i punti di vista. Il sistema di free locomotion implementato funziona a dovere, ma ci darà molte più soddisfazioni se sfruttato giocando l'intera avventura in piedi, magari sedendosi e ricentrando la visuale soltanto durante le calze. Grazie alle numerosepzioni legate al comfort, ognuno riuscirà a trovare il sistema a lui più congeniale, riducendo al minimo il rischio di motion sickness, sempre in agguato quando si parla di movimento libero. È evidente come Impulse Gear sia una software house che ci sa fare e ha preso tutte le precauzioni possibili per arrivare al maggior numero d'utenza. La stessa attenzione riservata al comfort è stata destinata anche nel comparto tecnico e artistico. Visivamente Farpoint è davvero splendido e rimarrà plausibilmente un punto di riferimento importante nel panorama PlayStation VR. Innanzitutto la definizione in game è più che buona, sempre lontana dall'essere perfettamente limpida e permetterci di leggere l'orizzonte con facilità, ma più che dignitosa tenendo conto dell'hardware su cui il titolo gira. I modelli poligonali dei comprimari e dei nemici sono davvero di ottima fattura e le animazioni sono convincenti e di grande impatto, nonostante alcuni problemi di proporzioni sui personaggi umanoidi. Anche gli ambienti si presentano in gran forma, nonostante la quantità di elementi a schermo rimanga un po' sottobilanciata, anche in un'ottica di composizione formale, l'insieme degli elementi rende il colpo d'occhio estremamente competitivo, nell'ambito dei titoli in realtà virtuale su console. Anche il comparto sonoro regala qualche soddisfazione, con un buon doppiaggio in lingua italiana, dei suoni convincenti e un accompagnamento sonoro certamente non memorabile, ma che fa il suo lavoro con una certa dignità. Ciò che stona durante le sei ore necessarie a chiudere la campagna è una gestione delle cut scene un po' pigra e una difficoltà non troppo bilanciata. È normale che a pochi anni dalla nascita della realtà virtuale non si sia ancora capito qual è il metodo più giusto per raccontare le tanto discusse scene di intermezzo, ma forse proprio per questo l'approccio migliore dovrebbe momentaneamente essere quello di Half-Life & Company, in cui la narrativa è sempre vissuta dagli occhi del protagonista. Qui si tenta, con una mossa un po' furbetta, di rifilare al giocatore una lunga serie di cut scene come se il protagonista le stesse osservando in prima persona, ma se a livello narrativo può in qualche modo tornare, a livello ludico non funziona. L'altro grosso problema di Farpoint è il bilanciamento delle forze nemiche. Benché a livello di difficoltà standard, gran parte della vettura scorra senza troppi intoppi, ci sono alcuni momenti in cui il numero di avversari presenti sullo scenario sarà eccessivamente superiore alle capacità del nostro protagonista. Complici anche la difficoltà nel riconoscere gli elementi oltre a una certa soglia, i game over si faranno numerosi durante una manciata di specifiche sezioni, che andranno quindi affrontate in maniera un po' insensata e in controtendenza rispetto all'approccio che viene ostentato dal level design. Questo rende i sopracitati in momenti piuttosto frustranti, anche a causa di un posizionamento dei checkpoint che lascia più di una volta desiderare, declassando quelli che potevano essere momenti più tesi in passaggi da affrontare con molta calma nelle retrovie. Ehi, ehi, Eva, quella cosa sopra le rocce. Farpoint propone inoltre una modalità con classiche challenge aondate da affrontare anche in cooperativa, oltre che una modalità PvP che propone alcune idee simpatiche ma accennate e che non riescono in alcun modo a farsi motivo d'acquisto. L'esordio di Impulse Gear è un FPS innegabilmente solido, molto divertente se giocato con l'Hime Controller quanto un po' insipido se affrontato con il classico DualShock. Se la narrativa non è il punto forte del titolo, il production value che sta dietro all'operazione vale da solo il prezzo del biglietto e saprà intrattenervi con degli scontri impegnativi e un impatto estetico mai visto sul neonato visore di PlayStation 4. Tutti sono avariati, la maggior parte, il 99%, la Pilgrim doveva essere rifornita. Non lo so, sono Marce. Sì, ma il miele è ancora buono, quindi... Grazie. 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 Grazie.